guardate dove sono tornata anche se è stata e tutti sono in vacanza io sto facendo mille giri infatti scusatemi per l'assenza ma è inevitabile perché ci sono tantissimi progetti tantissime novità di cui poi vi parlerò e quindi niente sempre di corsa raga comunque finalmente sono tornata a Verona anche se starò qui per poco tra poco vi faccio vedere tutti i pacchettini che mi sono arrivati e non vedo l'ora di parlarvi di tutte le novità del make up prodotti nuovi che sto sperimentando vi sto un po' trascurando nell'ambito del make up ma solo ed esclusivamente perché sto facendo una cosa veramente molto carina e voglio parlarvi anche dello skin care come vi dicevo perché sto sperimentando tantissimi prodotti nuovi incredibili ditemi quanti di voi in questo momento stanno facendo questo in compagnia di Filippo ragazzi Temptation stasera terza puntata oh vabbè ragazzi ma loro brava Ida bravi ragazzi perché ci vuole più coraggio ad andare avanti a perdonare piuttosto che starci a lasciare ma sperimenti io sono proprio felice aspetta come sei a che a che a che a che a che c'è a che a che